Che meraviglia! Di nuovo insieme! Volevamo solo regalarvi una vera luna di miele! Ho trovato lui che gattonava sotto il tavolo! Stava gattonando! È la tua prima volta! È un prodigio! È meraviglioso! Sono pazzi a farci alloggiare in un posto così! Come hai fatto a trovare un posto simile? Non gliel'hai detto? Se ne saranno già andati quando avrò il mio impegno! Lei deve essere il signor Parker! Le nostre scuse per il cambiamento di programma! Siete invitati per un drink? Ve lo chiedo per favore! Siate presentabili! Ci conosci? Lo sai quanto siamo tranquilli! Lo hanno letteralmente appena rilasciato dal senquente! Ti ho fatto il regalo più incredibile del mondo! Scusa, cosa? Perché questa coca non sa di coca? Perché è la tua mamma! Ho sniffato tua madre! È una cosa bellissima se ci pensi! No! Non l'avevo immaginata così! Va tutto bene, Marcus, ok? Siamo rilassati, no? Perché ci stanno sparando? Brassatemi! Giù quelle mani da mia moglie! Da quando è arrivato, ho trasformato questa vacanza di famiglia nel caos! Chi è che lo fa? E abbiamo affrontato l'inferno! Torniamo indietro, eh? Lo sapevo, codardo! È solo una cosa da fare, surfare! Già, mai visto uscire tanta acqua da una persona prima d'ora? Ho vomitato tanto! Dal tuo sedere, amico! Oh! Grazie a tutti.